Tutto ciò che fai per il narcisista non è mai abbastanza. Vediamo insieme perché. Non importa quante notti in sogni tu spenderai, non importa quante lacrime tu verserai, non importa quanti sacrifici tu farai, non sarai mai degna agli occhi del narcisista di averlo accanto per tutta la vita. E ce ne passa prima di capire che questa è una benedizione perché la felicità si può raggiungere soltanto lontano da queste persone. Ma nel momento in cui sei immersa o immerso nella relazione tossica, ti sacrifichi come un agnello sull'altare per far sì che il narcisista o la narcisista accanto a te sia felice e speri che questo possa bastare per entrare nelle sue grazie per tutta la vita. Ma il problema enorme è che con personalità del genere il partner o la partner perfetta non esistono. E vediamo un po' qual è, attraverso i miei occhi e secondo la mia esperienza, la dinamica in cui si cade in queste circostanze qua. Loro dettano le regole e chiariscono sempre in maniera molto netta e decisa quello che vogliono e quello che non vogliono da una relazione o nello specifico dalla relazione con voi. Cosa che la preda purtroppo non è in grado di fare perché come abbiamo già visto insieme la preda che cade nell'inganno del narcisista non è assolutamente centrata, non è in connessione con se stessa, non riesce a fare la stessa cosa, non riesce ad esprimere chiaramente cosa vuole e cosa non vuole dal suo partner. E quindi si prende un po' tutto quello che gli capita e finisce quindi il narcisista per dettare le regole del gioco. La dinamica è un po' questa. Il narcisista dice per esempio che vuole accanto a sé una persona onesta, diretta e sincera. E tu da persona intelligente sai benissimo che essere diretti, onesti e sinceri a volte può essere doloroso per chi riceve onestà. Nel momento in cui tu decidi di essere più diretta, onesta e sincera, il narcisista non mancherà di farti capire quanto lo hai ferito proprio perché sei stata sincera, diretta e onesta. E quando tu ferisci un narcisista questo ti attacca immediatamente l'etichetta di nemico e non ci sarà nulla che tu possa fare per redimerti. Ormai lui ti ha crocifisso, ti ha messo sul patibolo perché sei stata diretta, onesta e sincera e quindi perché hai risposto alla sua richiesta. Dobbiamo ricordarci che il narcisista ha questa forte forza interiore che tende a distruggere, una forza distruttiva e distruggerà qualsiasi cosa esca fuori di positivo nella relazione. Perché tutto ciò che esce di positivo nella relazione è per lui una sbarra alla gabbia. Lui si sente in una gabbia in una relazione. Per questo troverà sempre il modo di evadere. La condivisione totale per quanto possa essere totale la condivisione in una coppia non ci sarà mai in coppia con un narcisista perché lui terrà sempre nascosto tantissimo rispetto ad una persona comune. I progetti che fate insieme a lui o a lei sono soffocanti. Lui tenderà sempre a farvi credere che là fuori ci sarà qualcuno migliore di voi perché lui lo crede fermamente. Sono persone che fuggiranno sempre e sfuggiranno sempre dalle loro responsabilità dalla vita di coppia ma soprattutto da loro stessi. Fateci caso, loro ci metteranno sempre nella condizione di tradire noi stessi proprio perché non siamo in grado in quel momento lì di ascoltarci come ripeto di sapere cosa vogliamo cosa non vogliamo siamo alla sua mercè e proprio per questo noi dobbiamo assolutamente invertire la rotta e entrare in connessione con noi stessi perché solo facendo così possiamo avere il controllo non di quello che succede fuori perché questo è impossibile ma di quello che succede dentro di noi. Il narcisista troverà sempre il modo di farti sentire in fallo rispetto a tutto quello che fai di buono per rispondere alle sue richieste ed è quindi questa un'ottima ragione valida e definitiva per allontanarsi da queste persone così tossiche.